sostituzione infissi con ecobonus ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi la sostituzione di infissi con ecobonus è una sostituzione che può essere fatta in due modi con opere murarie e senza opere murarie al di là del tipo di incentivo che vuoi utilizzare che anche qui ci sarebbe da parlare tra super bonus ecobonus normale o ristrutturazione edilizia la cosa importante è capire in funzione degli altri interventi come ad esempio potrebbe essere una controparete interna in cartongesso o cappotto esterno e il tipo di serramento che è attualmente quello che vorresti montare se i risultati ottenuti con la sostituzione senza opere murarie possono essere sufficienti e adatti alle tue aspettative o se è importante invece fare delle opere murarie invasive come l'installazione di un controtelaio ecco il tipo di progettazione di poso in opera è una cosa da non sottovalutare non ti concentrare troppo solo sugli incentivi ma concentrati sulla soluzione migliore per avere un risultato che ti dia delle garanzie nel tempo e che soprattutto non ti dia problemi perché anche prendere il 50 per cento o il 110 per cento di qualcosa che negli anni venire da dei problemi non è una gran una gran manovra insomma se vuoi dei consigli in merito alla tua soluzione o alla scelta degli infissi e magari non ti fidi il salamentista che ti sta seguendo perché pensi che ti possa dare dei consigli che interessano più a lui che a te ti puoi valere del servizio di consulenza con sistema bisacchi che a disposizione di tutti quei clienti che non possiamo servire direttamente come la bisacchi se vuoi saperne di più vai su www.blogisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video ciao ciao ciao